Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Bagliani e sono laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche. Dopo la laurea ho svolto un PhD in medicinal chemistry alla Cardiff University in Galles e un post-dottorato alla Dundee University in Scozia. Dopodiché mi sono trasferito a Londra dove ho lavorato come scrittore medico scientifico per un'agenzia in stretto contatto con le industrie farmaceutiche e anche con il mondo dell'editoria e delle pubblicazioni. Ora lavoro per la casa editrice Sage da circa 11 anni e sono managing editor, ovvero redattore di quattro riviste mediche e cliniche peer-reviewed, ovvero che svolgono un processo di revisione tra pari. Il mio lavoro consiste nel dirigere il processo di revisione, di gestire il contenuto delle riviste e allo stesso tempo di mantenere i contatti con i vari membri del gruppo editoriale. Inoltre ogni anno partecipo a diverse conferenze internazionali per tenermi aggiornato sui vari studi clinici che molto spesso vengono poi pubblicati nelle nostre riviste. Un consiglio che avrei per i giovani CTFini che sono prossimi alla laurea e al mondo del lavoro è quello di considerare bene i vari sbocchi professionali ed occupazionali e se ne sentite l'esigenza di non limitarvi soltanto a quelle che sono le professioni classiche del CTFino. Un in bocca al lupo!